La grande colpa del ricco della parabola del Vangelo di oggi non è la ricchezza in sé, ma la povertà del suo cuore. Chi non ama e non tratta con misericordia al suo prossimo a un cuore poverissimo. Questa parabola ci invita oggi a farci un dettagliato esame di coscienza. Scendiamo dentro il cuore per vedere cosa vi troviamo, ricchezza o povertà d'animo. Se troviamo ricchezza ringraziamo Dio e proseguiamo con fermezza nel nostro cammino. Se troviamo povertà rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci al lavoro per convertire il nostro cuore. Come reagisci di fronte a chi chiede il tuo aiuto? Riesci a rinunciare alla pregrizia di fronte al bisogno dell'altro?